Amici dei tornei Arendt, questa è la voce di Leonardo Zullo in campo, Borussia e Napoli Credors per la quinta giornata del torneo Master League. Andiamo a dare uno sguardo agli highlights. Prima grande chance del match per il Borussia Dortmund con la pulizia di Morabito che spacca la traversa, trova proprio l'incrocio dei pali, lo rivediamo dal replay, un palo incredibile, sfortunatissimo il Borussia che ci riprova sfruttando la rimessa laterale, palla che viene bloccata da Picardi, primo tempo praticamente privo di emozioni, ma nel secondo tempo Fratino sblocca il punteggio, rasoiata vincente da fuori area, la prima occasione utile, festa in panchina sulla panchina del Napoli Creators per questo gol del vantaggio, poi arriva il pareggio del Borussia Dortmund immediato con Cristian Giniberti che sfrutta la pulizione, ribatte male la difesa e lui da fuori area calcia e riesce a battere Picardi, 1-1, ristabilita la parità al San Germano, Borussia che ha chiaramente meritato questo pareggio, è stata più vivace nella prima frazione. E dopo il gol del pareggio il Borussia si faccia in avanti con questo tiro al volo di Montella, super parata di Picardi, poi il palo la ribattuta in area di rigore e Creoli si fa trovare pronto per il 2-1, gol straordinario del Borussia, ma è stata fantastica la parata di Picardi che però non è riuscito ad evitare il gol successivamente, poi il Napoli Creators si spinge in avanti, porta avanti il pallone Crispo che allarga sulla destra la conclusione, finisce out, si disperano i tifosi venuti al San Germano per tifare Napoli Creators, bella questa conclusione ravvicinata di Crispo con Mancino, attentissimo Angelini ad uscire a chiudere lo specchio della porta, altra occasione per il Napoli Creators che cerca in tutti i modi di pareggiare, anche con questo cross palla che termina fuori e quindi il Borussia conquista 3 punti importantissimi, vince 2-1 grazie alle reti di Giliberti e Creoli